La Madonna Pellegrina di Fatima trascorrerà tutto il mese di ottobre nel borgo di Papasidero. La Sagra Efigie arriverà a Scalea giovedì 1 ottobre e sarà nel centro cosentino in occasione del 350esimo anniversario della proclamazione della Madonna di Costantinopoli quale patrona di Papasidero e del 25esimo anniversario di Sacerdozio di Don Ezio Saporito. Proprio Don Ezio ha snocciolato qualcuno degli appuntamenti che si succederanno nella comunità parrocchiale di Papasidero a partire da giovedì con l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima presso l'aviosuperficie di Scalea e il suo accompagnamento fino al santuario montano da parte dei templari cattolici dove si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Ciliberti, arcivescovo emerito di Catanzaro. E' un grande evento non solo per la comunità parrocchiale di Papasidero che è un piccolo centro del terreno, entroterra del terreno quindi tra il terreno e il pollino ma sarà anche un grande dono e una grande possibilità da parte di tutti i fedeli, tutti coloro che vorranno quindi partecipare a questo evento soprattutto incontrarsi con la Madonna perché non tutti possono andare a Fatima in Portogallo, quindi è la Madonna che si sposta, che viene portata dal suo santuario di Fatima, la Madonna Pellegrina e quindi viene a Papasidero per celebrare un grande evento perché ricorrono a Papasidero 350 anni che la Madonna di Costantinopoli, un grande santuario antichissimo del 1200 e nel 1665 è stata proclamata patrona di Papasidero e quindi Papa Francesco ha voluto donare attraverso la penitenzeria apostolica un anno giubilare, un anno straordinario che è iniziato l'8 dicembre dell'anno scorso e si conclude proprio l'8 dicembre di quest'anno, proprio in apertura all'anno della misericordia che è stato indetto proprio da Papa Francesco La Madonna arriverà quindi dall'Aeroporto di La Mezzia, poi da Scalea a Papasidero sarà accompagnata da un'associazione antichissima che è in tutto il mondo chiamato i Temblari, io non conosco ancora bene questa associazione che sia di sacerdoti e di laici che sono a servizio del Papa e della Chiesa collaborano per la diffusione del Vangelo anche attraverso la loro testimonianza e attraverso anche la collaborazione quindi saranno loro a consegnare alla comunità parrocchiale di Papasidero attraverso di me che sono il parroco ecco la statua pellegrina della Madonna di Fatima e dicevo da Scalea giovedì 1 ottobre dalle ore 16.30 accompagnata da un servizio militare quindi sarà la polizia stradale e quindi anche tutto il servizio d'ordine perché va cautelata soprattutto per il rispetto di questa venenata statua che occupa a livello religioso ma anche a livello mondiale quindi sappiamo che Fatima è un santuario internazionale quindi conosciuto da tutto il mondo quindi proprio per la portata grandiosa di questo evento e anche per la protezione per la cautela della statua e anche di tutti i fedeli che verranno quindi sarà accompagnata ecco da un servizio militare io ho fatto già richiesta alla sua eccellenza il prefetto di Cosenza per far sì che queste celebrazioni che dureranno dal primo di ottobre al 31 ottobre ecco siano tutelate e salvaguardate sia nel rispetto e per l'ignità della immagine della Madonna e anche per tutti i fedeli che verranno quindi partiranno alle 16 e 30 partirà da Scalea alle 17 arriveranno a Papasidra all'ingresso del paese la venerata immagine sarà accolta non solo da tutta la comunità ma da tutti i fedeli che spero che accorreranno da ogni parte perché è un grande onore è una grande possibilità soprattutto di incontrare la Madonna e chi non può andare a Fatima ecco la Madonna quindi viene in mezzo ai suoi figli proprio per sollevarli custodirli, benedirli e aiutarli nel cammino della vita sarà accolta quindi dalla comunità dei fedeli alle ore 17 subito dopo quindi sarà tutte le autorità civili, militari, religiose e soprattutto la presenza di sua eccellenza reverendissima Monsignor Antonio Celiberti che è stato arcivescovo e in merito motropolita di Catanzaro che presiederà la solenne celebrazione nella chiesa parrocchiale e poi la Madonna sarà portata nella chiesa di San Francesco dove sosterà per tutto il mese di ottobre e durante questo mese ci saranno tante celebrazioni particolari già dall'11 di ottobre ci sarà una giornata dedicata alla Croce Rossa italiana poi il 18 nella mattinata di domenica ci sarà una celebrazione dedicata agli ammalati agli operatori sanitari, medici, infermieri, tutti coloro che sono a servizio dei malati e il 25 poi che è l'ultima domenica di ottobre avremo anche un incontro particolare con le associazioni volontari tipo protezione civile, poi scout, associazioni, movimenti e così via quindi un programma intenso, significativo che io spero soprattutto a livello spirituale possa portare tanti frutti di grazia, di conversione non solo alla nostra piccola comunità ma a tutto il territorio la speranza mia è che tante persone possono usufruire e attingere da questi giorni di grazia con la presenza della venuta della Madonna di Fatima per la conversione del cuore e per l'incremento della fede in questo mondo in cui si parla tanto di disordine di violenze, di paure, di guerre, famiglie in crisi e così via la presenza della Madonna di Fatima possa portare non solo nella nostra comunità ma nel territorio e in tutte le famiglie di questa zona ecco quella pace che Dio solo può dare